Beni per un valore stimato in 18 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore regino ritenuto essere l'espressione dell'andrangheta nel settore della distribuzione commerciale sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Reggio Calabria. Nel 2018 l'uomo era stato coinvolto nell'operazione Martingala condotta dalla DIA e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Città dello Stretto e in riviato a giudizio per associazioni di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, estorsione, bancarotta, usura e reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Secondo l'accusa l'imprenditore sarebbe stato al servizio dell'andrangheta nonché il punto di riferimento per gli interessi economici e finanziari dell'organizzazione con la quale operava con un rapporto di reciproco scambio, gestendo di fatto diverse imprese impegnate nel settore della distribuzione commerciale, intestate formalmente a compiacenti fiduciari per evitare l'applicazione delle misure giudiziarie a carattere patrimoniale, imprese nelle quali sarebbero confluiti notevoli volumi finanziari di origine illecita. Nel luglio del 2022 invece l'imprenditore è stato arrestato nell'ambito dell'operazione planning per intestazione fittizia e reimpiego di capitali illeciti. Alla luce di questi avvenimenti è scattata una verifica patrimoniale che ha evidenziato la sproporzione dei beni posseduti con la sua capacità reddituale. Da qui la confisca dell'intero compendio agendale di 5 imprese operanti nei settori del commercio di elettrodomestici e immobiliare. 7 immobili, 2 autovetture, 27 orologi di lusso, preziosi, 147 mila euro in contanti nonché disponibilità finanziaria per un valore complessivo stimato in oltre 18 milioni di euro.